Questa è la sede centrale di una megaditta italiana degli anni Ottanta. La crisi del paese, la svalutazione galoppante, hanno finalmente generato nella classe impiegatizia un nuovo, incredibile, morboso attaccamento al lavoro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sollevate i teli! Sollevate i teli! Arrivi! Genonesi! Andarita! Astanasio! Fantesi! Madalamenti! Fantapieni! E' un'azio! Fanteri! Castellazzi! Mantini-Borgesio! Cruciani! Cruciani! Buonanotte! 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 Ciao ragazzi! A domani! Buonanotte! Ciao ragazzi! A domani! Ciao! Ciao! Tozzi! E come fa a ragionire? Tutto bene? Tutto a posto? Aspetti! Funziona! Ho solo un leggerissimo fastidio alle ginocchia! Alle ginocchia! Alle ginocchia!